Via ai lavori di riqualificazione del marciapiede e all'installazione di paletti per evitare soste selvagge in un tratto di piazzale Cesare Battisti a Torre del Greco. Dopo la richiesta del comitato di quartiere di nascita, l'amministrazione comunale è prontamente intervenuta. Interventi necessari per la sicurezza dei piedoni e per l'attraversamento dei disabili. Il comitato in queste ultime settimane, facendosi portavoce dei residenti, ha inoltrato una richiesta di lavori di riqualificazione. Alla consigliera Yolanda Mennella, l'assessore dei lavori pubblici Felice Caglione, vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno e la serietà che mettono in campo per la nostra città. In brevissimo tempo hanno accolto la nostra richiesta, dando inizio nella giornata di ieri agli interventi di riqualificazione. E via a questi lavori riveste una grande importanza per il quartiere. Si giunge così a soluzione di un problema evidente che metteva non solo in pericolo la sicurezza dei piedoni, ma addirittura ne negava l'attraversamento dei disabili. Ai residenti chiediamo un po' di pazienza per il disagio, era un intervento che andava assolutamente fatto per la salvaguardia di tutti.